Presentato il libro Portare la vita in salvo di Vito Calabrese. Il libro racconta la storia di Paola Labriola uccisa il 3 settembre del 2013 nel centro di salute mentale di via Tenente Casale a Bari. Un evento tragico che costituì uno strappo dell'ordine sociale. Le feratezza e anche il contesto del delitto ne hanno fatto fin da subito non un lutto privato ma un trauma per tutta la comunità. Il servizio di Alessandra Tursilli. Non è un libro su Paola ma di com'è difficile perché emotivamente doloroso vivere la perdita improvvisa di qualcuno a cui si è voluto bene e con cui si è condiviso parte della vita. A parlare Vito Calabrese, marito di Paola Labriola, la psichiatra uccisa dalla furia omicida di un suo paziente il 4 settembre 2013 nel centro di igiene mentale al quartiere Libertà di Bari. Una tragedia che ti porta a guardare la vita con meno illusioni e con più gratitudine e che ti porta a scoprire, racconta Vito Calabrese, che il tempo del lutto non è fatto solo di vuoto, di mancanza, di desolazione, di nostalgia del futuro ma anche di tutto quello che l'amore vissuto può continuare a generare nel presente attraverso il rapporto con gli altri e con la bellezza di altri racconti. Portare la vita in salvo, che cosa racconta questo libro? Allora, questo libro racconta un po' la mia esperienza del dopo Paola, dopo la morte di Paola. È stato un tentativo che ho fatto di, come dire, insomma, genericamente di elaborare il lutto, un po' cercare un po' di capire quello che mi stava succedendo perché, diciamo, gli altri mi chiedevano, ma come mai stai reagendo così? Allora, a un certo punto, detto una volta, detto due, tre, eccetera, ho detto, ma forse qualcosa di particolare mi sta accadendo e devo cercare anch'io di capirlo. E quindi è stato un modo per capire in qualche modo me stesso, diciamo anche. Come si fa a portare la vita in salvo dopo che, appunto, uno vive un dolore così grande che gli si abbatte così in maniera assolutamente improvvisa? Ovviamente ricette non ce ne sono. Diciamo, in sintesi, lo dicevamo anche con l'editora, con l'editora Evilla Zaccanino che, diciamo, come dire, grazie a lei abbiamo prodotto il libro. Forse ho capito anche dopo la scrittura del libro che si può portare la vita in salvo insieme agli altri, da soli non si può portare la vita in salvo. Quindi l'importanza, come dire, dei legami umani, quella è la cosa, io credo che non ci siano altre ricette che questa. Mi ha aiutato il modo che gli altri li sentivo abbastanza adolorati come me, per esempio. Quindi inizialmente io mi veniva quasi spontaneo, quasi di... io faccio lo psicologo di lavoro, mi veniva spontaneo quasi di rassicurarli, di dire dai ce la faremo e cose di questo genere, per dire addirittura. Che cosa le manca di Paola? Mi manca Paola, mi manca il suo sguardo sulle cose, mi manca la sua presenza, mi manca il confronto, è terribile per una persona che si trova sola, è terribile il confronto che vuoi fare con qualcuno, anche sulle cose banane. Sai, mi è successa questa cosa oggi, io non so a chi dirla. è un'acquesta che si trova sola, è un'acquesta, è un'acquesta, è un'acquesta, è un'acquesta, è un'acquesta. Grazie a tutti